buongiorno la lezione di oggi sarà dedicata a spiegare in maniera speriamo quanto più possibile usastiva le modalità di svolgimento dell'esame di diritto dei mezzi di comunicazione in tanti mi avete scritto chiedendomi come si svolgerà l'esame come funzionerà quale sarà la modalità ho risposto a tutti dicendo che entro qualche giorno vi avrei dato maggiori informazioni ed eccomi qui a darvi tutte le informazioni possibili ho dovuto attendere non perché io non avessi ancora deciso semplicemente perché come potete immaginare ovviamente servivano delle linee guida a livello di ateneo su come svolgere questa prossima sessione di esame e non è che ogni docente può scegliere in maniera completamente libera come svolgere gli esami in questa situazione particolare voi avrete visto che sul sito del nostro dipartimento sono state pubblicate questa mattina le linee guida per lo svolgimento degli esami nella prossima sessione estiva e quindi sono qui a spiegarvi in maniera più dettagliata come funzionerà il mio esame l'esame di diritto dei mezzi di comunicazione per il corso di laurea culture digitali e della comunicazione allora punto primo l'esame purtroppo a seguito dell'emergenza coronavirus che ancora sta andando meglio ma non è finita l'esame purtroppo si svolgerà in modalità online quindi non in presenza in modalità online noi tutti avremmo preferito fare esami in presenza purtroppo non è possibile quindi online detto questo poiché io ho un numero molto alto molto elevato di studenti iscritti al mio esame oltre 200 il direttore del mio dipartimento mi ha autorizzato a trasformare il mio esame normalmente si svolge in forma orale quindi la classica interrogazione purtroppo però dovendolo fare online con me seduta qui e voi da casa uno per volta ad essere interrogato capite bene che facendolo online avremmo impiegato tre quattro giorni dieci ore al giorno e facendo una modalità diciamo con orario normale tra un po il primo appello si andava a cavallare con il secondo per cui sono stata autorizzata a trasformare il mio esame da orale che era previsto in modalità normale l'esame per questa sessione estiva si svolgerà in modalità scritta ok questo non cambierà nulla rispetto all'esame è solo una diversa modalità che anzi forse potrebbe avere degli utili risvolti positivi per voi perché potete in questo modo esercitarvi a scrivere che male non fa perché spesso arrivate poi al momento di scrivere la tesina del finale del triennio avendo qualche difficoltà e quindi vedetelo come un utile esercizio ai fini dell'elaborazione del testo finale quindi esame online esame scritto ok come la piattaforma da usare per l'esame sarà la piattaforma teams quella scelta dal nostro ateneo io spero che voi siate già tutti iscritti alla piattaforma teams perché molti anzi la maggior parte dei miei colleghi fa le lezioni su teams qualora non lo foste iscrivetevi a teams ci sono una serie di manuali d'uso sul nostro sito di ateneo fatevi aiutare dai vostri colleghi è fondamentale usare la email di ateneo quella che voi avete con nome punto cognome studenti unina punto it quello è assolutamente necessario per cui iscrivetevi a teams per aiutarvi per aiutare coloro che non sono già abituati con teams o comunque che volessero provare ho già creato su teams un teams chiamato classe diritto dei mezzi di comunicazione professoressa ferrari zumbini ora tutto ciò che io vi sto dicendo troverete anche un avviso scritto nel mio sito web docenti a partire da stasera sul sito web docenti con questo avviso in cui do tutte le coordinate per lo svolgimento dell'esame voi troverete anche il codice della classe diritto dei mezzi di comunicazione codice da usare per entrare nella mia classe di diritto dei mezzi di comunicazione potete entrare già da subito l'ho già attivata solo per prova per avere un canale di comunicazione con tutti quanti voi e provare questa piattaforma tra di noi per abituarci la classe classe diritto dei mezzi di comunicazione sarà solo una prova perché perché l'esame si svolgerà come da calendario l'undici giugno l'undici giugno qualche giorno prima del primo appello ovviamente io parlo del primo appello lo stesso vale per il secondo e il terzo appello che saranno il 24 giugno e l'otto luglio qualche giorno prima del dell'appello ovvero al momento in cui si chiudono le iscrizioni voi vi dovete iscrivere al mio esame tramite segrepass come avete sempre fatto per tutti gli altri esami come la prenotazione dell'esame non subisce alcun tipo di modifica se non riuscite a iscrivervi su segrepass mi dovete mandare una mail assolutamente prima della chiusura delle iscrizioni su segrepass una volta che le iscrizioni su segrepass sono chiuse io non posso fare più nulla per cui se avete problemi ok mi scrivete ma prima del termine di chiusura su segrepass per le prenotazioni quando il termine su segrepass chiude io creo il teams che chiamerò esame di diritto dei mezzi di comunicazione professoressa ferrari zumbini e il codice per entrare in quel teams lo manderò via mail solo agli studenti che risultano iscritti per quell'appello e a quelli che mi hanno mandato una mail segnalando difficoltà in modo tale che nel teams esame di diritto dei mezzi di comunicazione ci siano solo le persone iscritte all'appello mentre nel teams classe di diritto dei mezzi di comunicazione ci sarete sempre tutti l'esame il primo appello sarà 11 giugno alle ore 11 ora per iniziare puntuali voi cominciate a entrare nella classe teams esame di diritto dei mezzi di comunicazione non oltre le dieci e mezza perché alle dieci e mezza io comincerò a fare l'appello a vedere quanti siete a controllarvi ok in modo tale che io abbia tutta la situazione chiara ovviamente se poi doveste essere troppi iscritti al primo appello potrei creare degli orari cioè alcuni alle 11 altri a mezzogiorno questo potrò vederlo solo una volta che avrò chiari quanti sarete iscritti all'esame però diciamo che se riesco proverò a fare un unico blocco tanto io con teams riesco a vedervi tutti e alle 11 io detterò su teams tre domande tre domande che saranno tre domande su argomenti che io ho esaminato nelle mie noccioline che sono nel libro ok quindi se voi avete seguito tutto il corso avete letto il libro sarete in grado di rispondere alle domande detterò queste tre domande voi dovrete usare carta e penna cioè dovete avere un foglio protocollo davanti a voi carta penna scrivete le domande e dovrete rispondere su quel foglio alle domande che io vi faccio sono tre domande le risposte non devono essere più di dieci riga per ogni domanda in modo tale che le tre domande voi potete anche segnarvi le domande su un foglio a parte e poi invece sul foglio protocollo che poi consegnerete a me metterete solo domanda uno domanda due domanda tre così diciamo andate più rapidi tanto io lo so quale sono le domande non serve che me le riscriviate e dovete fare non più di dieci righe di risposta per ogni domanda e avrete un'ora a disposizione per rispondere a queste tre domande piccola parentesi come vi dicevo quest'esame che si svolgerà in modalità scritta ovviamente sulle linee guida di ateneo ci sono una serie di reminder sul fatto che non dovete copiare non vi dovete scrivere su whatsapp non dovete avere suggeritori esterni non dovete guardare appunti quaderni computer e quant'altro queste sono tutte regole che l'ateneo vi ricorda anche a livello del dipartimento e peraltro copiare durante un esame è comunque un illecito ma a me non interessa il profilo strettamente giuridico anche se io insegno diritto a me interessa più responsabilizzarvi gli esami universitari servono principalmente a voi per imparare e per esercitarvi a me non serve fare gli esami a voi io non per me è uguale farvi gli esami promuovervi o rimandarvi a me non cambia a voi cambia tanto perché se voi studiate voi imparate qualcosa che vi sarà utile per la vita e se voi fate davvero l'esame lo svolgete davvero e vi preparate è un esercizio utilissimo per tutti gli esami che dovrete sostenere in futuro nella vostra vita quindi prendetelo non solo come superamento di un esame per imparare qualcosa ma anche come esercizio per affrontare un esame scritto che è importante perché la maggior parte degli esami importanti per il lavoro sulla vita se volete per esempio fare un concorso pubblico saranno tutti scritti e se non vi esercitate non imparerete mai detto ciò copiare è comunque un illecito io su teams posso vedervi ho un quadro generale di tutti voi magari mentre voi scrivete chiederò a qualcuno ogni tanto di farmi vedere il compito tirar sul foglio farmi vedere che cosa c'ha sulla scrivania eccetera eccetera ma non voglio essere il poliziotto che vi controlla vorrei che voi foste responsabili per voi stessi ok per cui non copiate quando vi ho detto dovete usare carta e penna su un foglio ve lo ripeterò all'inizio dell'esame ma ve lo dico fin da ora ovviamente sul foglio dovete scrivere il vostro nome il vostro cognome e la vostra matricola perché a volte ci sono delle omonimie quindi mi raccomando quello potete già iniziare a farlo dal giorno prima dell'esame preparare foglio protocollo con su scritto nome cognome matricola quando scrivete le risposte scrivete bene con una calligrafia leggibile perché se io ho difficoltà a interpretare i vostri segni grafici la lettura diventa più difficile e crea problemi per cui scrivete in modo comprensibile terminata l'ora che vi do per rispondere a queste tre domande voi dovrete fare una fotografia al vostro compito quindi fotografate precisamente il foglio su cui avete scritto le risposte e uploadate questa foto su teams se voi siete già abituati con teams sapete bene che nei vari teams c'è in alto la sezione file in cui ogni partecipante del team può caricare dei file per cui ciascuno di voi deve fare la foto mandarsela via mail e poi caricarla sul teams degli esami chi dovesse avere problemi darò ovviamente la mia mail per mandarmi la mail se non doveste riuscire a caricare non vi dico di mandarmi tutti la mail perché altrimenti c'è il rischio che si intasa preferisco averle su teams però comunque vi darò anche un indirizzo mail a cui mandare il file è fondamentale che voi mi mandiate questo file allegato via mail allo scadere dell'ora posso dare cinque minuti dieci minuti di come dire di tolleranza però se mi mandate una mail tre ore dopo io non l'accetterò chi mi manderà la mail o comunque il file su teams oltre lo scadere del periodo con dieci minuti massimi di tolleranza non verrà valutato e quindi dovrà ripetere l'esame all'appello successivo al termine ovviamente io poi a quel punto una volta ricevuti tutti i vostri compiti fotografati del vostro foglio protocollo su cui mi avete scritto le vostre risposte li dovrò correggere io farò in modo di correggerli il più velocemente possibile però in questo momento non sono in grado di dirvi quanti giorni dopo avrete i risultati perché dipende da quanti compiti avrò da correggere ad ogni appello farò però vi prometto il prima possibile appena li avrò corretti tutti io pubblicherò sul mio web docenti un file con numero di matricola e voto indicando anche un giorno in cui ci rivediamo sulla stessa piattaforma teams esami di diritto dei mezzi di comunicazione in cui dovremo semplicemente verbalizzare i voti che avete ricevuto quindi poi ci sarà la verbalizzazione perché ci dobbiamo rivedere perché ovviamente voi mi dovete dare il pin e ve lo farò in modo abbiamo già studiato una modalità in modo per cui se anche ci sono più persone su teams io scriverò un messaggio privato a ciascuno di voi ogni volta che vi verbalizzo in modo tale che il vostro pin voi lo comunichiate in maniera privata solo a me e nessun altro potrà vederlo per cui la vostra privacy sul codice del vostro pin è garantita altre un'ultima indicazione le domande che io vi farò non saranno domande nozionistiche cioè parlatemi del diritto di cronaca perché ovviamente per quanto voi possiate essere autoresponsabili una domanda del genere è troppo facile diciamo ricevere aiuti farsi aiutare quindi elaborerò delle domande che saranno ovviamente basate sulle nozioni di cui noi abbiamo parlato ma saranno un'applicazione pratica delle nozioni che noi abbiamo imparato a dei casi concreti in modo tale che voi dobbiate dimostrarmi non solo di aver studiato ma anche di aver capito quello che avete studiato ok vi farò il caso se tizio fa questo cosa può succedere ok in modo tale che voi dobbiate richiamare le nozioni studiate per poi farci un piccolo ragionamento per rispondere alla mia domanda come vi ho detto non più di dieci righe a risposta per cui dovete anche imparare a essere sintetici nelle vostre risposte con un'ora a disposizione avete tutto il tempo per rispondere con dieci righe a tre domande quindi vi sto facendo fare un esame assolutamente alla vostra portata potete farlo potete farlo molto bene se seguite tutte le lezioni studiate il libro sarete perfettamente in grado di sostenere questo esame e quindi in bocca al lupo per l'esame e per qualsiasi domanda scrivete un commento a questo video e io vi risponderò oppure perché così è meglio rispetto alla mail perché se mi scrivete un commento a questo video potranno vederlo tutti i vostri colleghi e anche la mia risposta mentre l'email è semplicemente un dialogo fra me e uno studente e gli altri non possono vederlo quindi sono a vostra disposizione commentate questo video su youtube oppure quando adesso vado a pubblicare il codice su web docenti della mia classe teams se volete potete scrivere sulla chat di teams spero di essere stata chiara in ogni caso sono a disposizione per qualsiasi tipo di domanda a presto e buono studio